Alexei se ne ha reso conto tanto tempo fa. Non state trattando con un politico, ma con un gangster sanguinario. Putin è il leader di una banda di criminalità organizzata. Putin è il leader di... Sorry. Thank you. Grazie. E' bene ripetelo, Putin è il capo di una banda di criminalità organizzata. Che comprende avvelenatori, assassini, ma tutti non sono altro che marionette. La cosa più importante sono le persone vicine a Putin, i suoi amici, i suoi consociati, i tesorieri del denaro della mafia.